Marx ricordava gli operai, guardate che voi non siete dei soggetti storici, voi siete co-storici, perché la storia la fanno quelli che hanno i soldi, i vostri padroni, la fanno gli imperatori, la fanno i principi, la fanno gli eserciti, la fanno i potentati, e voi siete co-storici, non siete soggetti storici. Allora dovete prendere coscienza di classe, che se voi smettete di lavorare, fate degli scioperi belli, lunghi, morirete di fame, ma costringerete la storia a includervi. E la cosa è stata vera, perché l'inclusione della classe operai è avvenuta attraverso la presa di coscienza che il sistema stava in piedi sul loro lavoro, cose che abbiamo dimenticato già completamente, tutto da capo, via. Bisogna ricominciare tutto da capo adesso, però. Ma se può ricominciare tutto da capo, io mi domando, i giovani che sono in una condizione spaventosa, nel 1968 per niente è successa la rivoluzione, solo perché si voleva andare un po' più con le donne, si voleva diminuire un po' l'autorità dei professori, di quelli che avevano un certo, un'autorità che era autoritarismo, per molto meno è scoppiata la rivoluzione. Perché oggi non scoppia? Perché? Perché i giovani se ne stanno pieti? Perché passano quei loro 600 euro a progetto a co-co-co, da un posto all'altro, così, senza futuro? Perché succede questo e non succede la rivoluzione? Perché nel 1968 c'era ancora una dimensione umanistica, un conflitto tra due volontà. Nel senso che gli interessi dell'operaio non erano gli interessi di Agnelli, e quindi ci si poteva scontrare e fare la rivoluzione tra due volontà, quelle che Egeri indica servo e signore. Servo e signore. Oggi sia il servo che il signore sono della stessa parte, e sopra di loro c'è quella dimensione anonima che si chiama mercato, tecnica finanziaria, investimenti. Chi è quella volontà antagonista, sia il servo che il signore, che si trova nella stessa parte? Cos'è questo mercato, questo nessuno? Cioè è vero che Omero ci ha detto che dietro nessuno c'è sempre il nome di qualcuno, però è indecifrabile questo qualcuno, con chi te la prendi? Ecco, donde è la rassegnazione giovanile? Ma è finito il tempo escatologico, è finito il tempo volto a uno scopo. Finita sta roba qua. C'è solo il tempo oggi e domani, oggi e domani, oggi e domani. Il precariato, è questo il tempo del precariato. Per oggi mangio, per oggi vivo. Domani...